L'Italia, nella regione molise, ha sede un'impresa giovane che si colloca ai vertici delle competenze tecniche del settore. L'Italia è un paese che ha raggiunto un livello di eccellenza nella progettazione, costruzione e gestione degli impianti e delle reti di distribuzione del gas naturale. Metano Impianti Molise ha la sua base operativa a San Giacomo degli Schiavoni in provincia di Campobasso. Metano Impianti Molise è diretta da un giovane e management fortemente proattivo. La rete commerciale è operata da tre dinamici operatori di mercato che stanno sviluppando un'ottica di espansione sovraregionale e internazionale. L'azienda opera a rete, collaborando con fornitori e clienti per la definizione e l'adozione di innovazioni tecnologiche e per l'implementazione degli standard produttivi qualitativi, economici ed ecocompatibili necessari per lo sviluppo dello specifico comparto industriale delle reti metanichele. Lo staff aziendale è composto da 27 addetti. I tecnici superiori e gli ingegneri sono quattro, tutti con elevate competenze specifiche del settore. Quattro sono gli addetti gestionali e amministrativi. Nel design dei sistemi e delle componenti, l'ufficio tecnico di Metano Impianti Molise utilizza un software innovativo di progettazione in 3D, con library dedicata che consente di dimezzare i tempi di reazione e stesura, riduce le occasioni di errore e rende agevole gli interventi di revisione successivi ove necessari. Il software innovativo consente anche di sviluppare il rendering finale dell'impianto e di simularne il funzionamento, dando al committente un'idea efficace dell'assetto finale dell'opera a fine lavori. Metano Impianti Molise, dagli inizi degli anni 90, opera nel settore per la progettazione e realizzazione di complessi sistemi di regolazione e misura e di manutenzione degli impianti a servizio di gasdotti e reti di distribuzione del gas naturale. Dall'inizio degli anni 2000 si è definitivamente imposta come fornitore e partner territoriale dei maggiori distributori di metano in Italia. Attualmente punta ad un mercato più esteso, verso i principali nodi europei di estrazione e smistamento geografico del gas naturale. Metano Impianti Molise è una knowledge company che gioca il suo successo sulla capacità di configurare soluzioni innovative. Il punto di maggior valore è quindi nel suo cervello progettuale. L'azienda è specializzata nella realizzazione fisica degli impianti di distribuzione di gas con l'impiego di componenti e sistemi originali disegnati all'interno dell'ufficio tecnico di San Giacomo degli Schiavoni. Essa progetta e produce apparecchie a pressione quali filtri, scambiatori di calore e serbatori per la odorizzazione del gas. La fabbricazione di queste attrezzature è svolta rigorosamente in-house. La tecnologia delle imprese italiane nel settore è di tipo world class, aggiornata e competitiva, e i modelli di progettazione a base informatica, gli standard ingegneristici e di sicurezza, l'affidabilità della componentistica, la razionalità dei sistemi di gestione e manutenzione, configurano un tipo di industrie di eccellenza internazionale. Riconoscimenti sono stati attribuiti da importanti clienti quali EMI, Italgas e SNAM e Edison a metano in pianti molise, come fornitore di impianti di prima e seconda riduzione per gas metano e di odorizzazione. Specifiche certificazioni riguardano le azioni di piping e odorizzazione. Il core business di metano in pianti molise è la progettazione, costruzione e montaggio di stazioni per la riduzione e misura del gas metano e di gruppi di regolazione finale per la distribuzione dello stesso gas con lo snodo da grandi metanodotti e la derivazione alle utenze locali, civili e industriali. Tutti i processi produttivi aziendali sono svolti entro i termini di certificazione di qualità riconosciuti a livello internazionale. L'azienda è certificata UNIEN ISO 9001 per la progettazione, fabbricazione, installazione e manutenzione di stazioni di decompressione e misura, gruppi di regolazione, apparecchia pressione. Esempi di rilievo fra i progetti innovativi in corso sono la realizzazione coordinata di 60 stazioni di regolazione con un sistema modulare per Italgas, nonché impianti a grande portata di prelievo e regolazione realizzato per una primaria società ucraina di trasporto gas. Altri progetti esteri sono in fase di attuazione per i paesi dell'est europeo. Nell'attività di manutenzione una soluzione, spesso richiesta dai vari committenti e sviluppata dall'azienda, è quella relativa all'impiego di stazioni mobili che vengono disposte in sostituzione temporanea di cabine esistenti, per consentire il bypass di impianti da modificare e o sostituire. È importante sottolineare che Metano Impianti Molise svolge un'assidua attività di post vendita e manutenzione presso i clienti. Il 30% del fatturato d'impresa è costituito da lavoro di consulenza, manutenzione e interventi di revamping. Tra i lavori importanti in Italia, particolare è l'intervento per la realizzazione dell'impianto di prelievo, regolazione e misura commissionata dalla società Pescara Distribuzione per la seconda presa del Comune di Pescara. Lo sforzo imprenditoriale di Metano Impianti Molise è stato premiato da ottimi risultati commerciali nell'ultimo decennio. In particolare, dal 2006, il fatturato dell'azienda ha conosciuto una crescita media annua del 15%. Il volume d'affari è così raddoppiato, raggiungendo il livello di circa 3,5 milioni di euro nell'ultimo anno. La performance aziendale è dovuta ad un energico spirito imprenditoriale e insieme alla qualità delle risorse umane che operano a tutti i livelli dell'impresa. Il metano provoca meno CO2 e meno ozono di benzina, GPL e carbone. Le agenzie internazionali lo definiscono prodotto energetico a minimo impatto ambientale. Grazie. 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 Grazie.